Ragazzi bentornati, bentornati su Games Collection TV, un saluto come sempre dal vostro Miyamoto e bentornati nella rubrica delle uscite del mese che per una volta tanto arriva giusta, arriva in anticipo perché come vi avevo già detto a luglio avrei avuto un po' più tempo libero e quindi mi sono preparato in tempo per comunicarvi le uscite di questo agosto 2014. Agosto 2014 che fa un po' così da apripista per le uscite top mondo, top bestia, che usciranno poi in autunno a settembre, ottobre e novembre, più o meno un mese di agosto sicuramente migliore rispetto a luglio anche se era difficile non essere migliore di luglio, insomma perché come sapete luglio è stato un mese pessimo, ad ogni modo scusate se sto sudando ma in casa mia ci sono tipo 48 gradi, fa un caldo allucinante e io non ce la faccio più, però insomma il viso è stato da fare, quindi partiamo subito, partiamo subito perché qualcosina di interessante effettivamente c'è. Il primo del mese esce Sacred 3 per PlayStation 3 e Xbox 360, un titolo piuttosto atteso, esiste in realtà anche una sorta di limited edition che in realtà non è una limited edition ma che si chiama First Edition e comprende oltre al gioco qualche DLC, tipo di missioni, personaggi, un po' così. L'otto esce Ultra Street Fighter 4, anche questo per Play 3 e Xbox 360, onestamente mi pare di averlo già segnalato, forse nelle uscite di giugno probabilmente si vede che l'hanno posticipato, quindi confermo anche che l'8 di agosto esce Ultra Street Fighter 4 dopo l'uscita. Il 19, titolo cool, molto figo secondo me, è uno dei più principali di questo match di agosto, Diablo 3 Ultimate Evil Edition per Play 3, Xbox 360, Play 4 e Xbox 360, che cos'è questo Diablo 3 Ultimate Evil Edition? Semplicemente è un'edizione comprendente il Diablo 3 di base più l'espansione che finalmente anche arriva su console, Reaper of Souls, quindi ecco, se non avete comprato la versione, quella standard, questa è una buona occasione per portarsi a casa un titolone. Il 22 esce un gioco che il nostro Yuri ha particolarmente amato, per chi ci segue su gamescollection.it e leggere le nostre recensioni. Il 22, come detto, esce Piante vs Zombie Garden Warfare. Praticamente il titolo era già uscito, mi pare, a febbraio per X1 e X360 e adesso ho prodotto anche sulle console Sony, quindi Play 3 e Play 4. Il 28, l'uscita secondo me è top, quella più importante del mese, almeno a mio modo di vedere, ecco. Tales of Sylvia 2 per PlayStation 3, ovviamente. Il 28, appunto, escono due edizioni, ormai la classica che la serie Tales ci ha abituato, la Day 1 Edition, che comprende oltre al gioco anche una steelbook e una selezione, diciamo non tutta la colonna sonora, ma una selezione di tracce dalla colonna sonora e costa circa 60 euro. E poi abbiamo anche la Lutcher Krasnik Collection Stories Edition, che costa sicuramente di più, infatti sono circa 40 euro in più, 100 euro totali. Su GameStop ho visto che è già esaurita, quindi se la volete affrettatevi a cercare l'altro over, perché in Italia almeno il rievenitore GameStop l'ha messa sold out. Stavo dicendo, oltre al gioco, questa edizione, che è bella corposa, tra l'altro la scatola, come avete visto nella foto, è bella grossa, c'è una statuetta, un orologio, classico artbook, anche qua una selezione della colonna sonora e la steelbook. Praticamente, ecco, riprende la Day One Edition con qualche aggiunta. Però, insomma, il titolo è interessante, per chi segue questo genere è sicuramente un'uscita molto attesa. Chiudiamo il mese di agosto con due uscite, il 29, la prima è Ryzen 3 e Titan Lords per Xbox 360 e Play 3, e poi Metro Redux, o Redux, non so come cavolo si dica ragazzi, per Play 4 e X1. Quindi, con questo abbiamo chiuso il mese di agosto per le console casalinghe, come vedete, qualcosina, insomma, di interessante c'è perciò. Se non andate in ferie, dovete rimanere ad agosto a casa per lavorare, ecco, avete sicuramente qualcosa con cui sfogarvi la sera, qualche gioco gustoso, ecco, gustoso. Chiudiamo questo video, anche perché devo riaccendere il ventilatore ragazzi, perché sto morendo, figa. E con le console portatili, quindi, il primo del mese esce Lego Ninjago, Nindroids, per 3DS e PS Vita, e il 27, un titolo che mi fa parecchio incazzare, perché qui in Europa uscirà solo in versione, diciamo, digital delivery sul PSN, mentre in Giappone e negli Stati Uniti uscirà anche in versione retail. Sto parlando di Hyper Dimension Neptunia Redbird 1. Io ero interessato a questo gioco, volevo anche comprarlo, probabilmente lo farò più avanti, ma sicuramente acquistarò la versione americana, mi fa solo incazzare che, come al solito, noi europei siamo sfigati, e oltretutto, cavolo, già, PS Vita lascia il tempo che trova, perché sta veramente facendo giugare i coglioni a molti che l'hanno acquistata, vista la penuria dei giochi e, comunque, il fatto che è molto mal sfruttato da parte di Sony, oltretutto ci fanno ancora queste sorpresine di digital delivery, date a cagare, allora, date a cagare, perché io boicotto il digital delivery. Va bene, ragazzi, ho finito, ho finito così questo mese, vi aspetto a settembre, con le, diciamo, le prime uscite forti di questa stagione, di questa nuova stagione videoludica, vi mando un abbraccio, andate al mare, sono voi che potete, andate a fare il bagno, e un bacione a tutti, a presto, ciao!